Go! Partita! La prima serie dei 50 gara maschili del terreno sconto di Don Martimedio la 4 con il sconso della 5 Martimedio il terreno italiano 25 e 37 Go! Imergosia 6 Si fa avanti e va a vincere e si muore e ce ne ha solo 25 e 85 Imergosia